Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio parlare di un prodotto che sta, che è già uscito da qualche giorno su GameFound, che io voglio assolutamente, perché mi piacciono i giochi storici e soprattutto ambientati durante il periodo romano o ellenico, anche precedente, vi volevo far vedere un pochino di cose che la Dracoideas mi ha mandato. Se vi ricordate, non molto tempo fa vi ho fatto vedere Onus Pack. Tra l'altro, piccolo, volevo mettere una piccola parentesi, piccola aggiunta, questa è la versione Pack che riprende praticamente tutte le più grandi battaglie dell'epoca, i popoli, Alessandro Magno, Leonida di Sparta, magari Annibale e Scipione l'Africano, le Guerre Puniche e Giulio Cesare. Questa è la versione se volete giocare tutte le guerre del passato fino all'epoca romana. Se invece volete provare il nuovissimo prodotto e l'ultimo che è uscito, si chiama Onus Traianus, quindi sulle conquiste di Traiano, la più grande espansione dell'impero romano che sia mai esistita appunto sotto l'imperatore Traiano, e tra l'altro nel 2023, quindi l'anno precedente, ha vinto uno dei migliori premi come Wargame dell'anno. Cioè è stato premiato come Wargame dell'anno 2023 da una testata giornalistica e commissione che appunto da premia i migliori giochi ai più belli e che se non erro è in Inghilterra ed è una delle più prestigiose ed ha vinto il titolo di gioco Wargame dell'anno. Quindi è veramente spettacolare, infatti vi rinvito ancora una volta, dateci un'occhiata perché tra l'altro, e poi vi faccio vedere cosa c'ho qui, ho scoperto che c'è tanta gente lo ha trasformato in un gioco di miniature perché sì, è vero che si gioca con le carte dove sulle carte sono rappresentate le truppe e quant'altro però ci vale un attimo a stamparsene in 3D con opliti greci e magari dividere la basetta in 4 quindi ho visto gente che lo gioca con un tavolo pieno zeppo di miniature e diventa una cosa bellissima anche perché il regolamento è facile, veloce, immediato e molto storico e vi volevo far vedere cosa mi hanno mandato. Mi hanno mandato i dadi, che ora vi faccio vedere meglio a video che è un piccolo set con diversi colori per i dadi che un po' vanno a rappresentare se vogliamo non vuol dire niente, sono colori semplici però il rosso è un po' il colore di Sparta il blu è un po' il colore di Atene e tutto il resto dei colori che poi possiamo utilizzare sono veramente belli perché anche le cifre sopra sono in, c'è la corona ovviamente intorno classica romana o di Alessandro Magno o degli Imperatori e poi i numeri sono numeri romani quindi sono veramente molto belli è un set piccolino di 16 dadi quindi 4 per colore ma è veramente molto carino e secondo me ci si sta meglio e poi in più non che servano per forza perché già nelle scatole basi trovate game mat ovviamente fatti in carta cartoncino però mi hanno mandato dei game mat veri e propri che ora vi faccio vedere a schermo e sono veramente veramente bellissimi sono fatti bene e poi sono della giusta grandezza volendo per poterli riutilizzare anche in altri wargame magari in scala forse per il 28 mm sono leggermente piccolini però per giocarli in scala 10 o 15 mm sono perfetti e sono veramente molto belli e poi ovviamente sono game mat in neoprene io ringrazio di cuore Draco e Dias per tutti questi prodotti che ci hanno fornito veramente grazie a un onore collaborare con voi vi ricordo come detto all'inizio del video che c'è il loro game found come ora vedete a schermo questo loro nuovo game found tipo kickstarter è per il gioco Ispania che vede la conquista di Cesare Ottaviano Augusto della Spagna con sottomissione ovviamente all'impero romano ed è un gioco fatto veramente molto bene dove ci si dovrà muovere per le province ci si dovrà muovere per la mappa andando a conquistare e rinforzare il potere di Roma per la battaglia appunto per liberare e annettere all'impero romano dal primo ricordo il primo vero imperatore perché Cesare non lo fu per annettere l'Ispania all'impero romano ed è un gioco molto interessante perché io già ho trattato qualcosa del genere in passato sul canale e vi consiglio di andare a vedere il kickstarter o per meglio dire il game found perché è già iniziato e ci sono veramente belle cose quindi andate a dare un'occhiata perché potrebbe essere un gioco fatto per voi oppure anche veloce e immediato che vi potrebbe interessare si potrà giocare da un a tre giocatori dove sarete dei pretoriani o dei consoli inviati appunto in Ispania dall'impero romano quindi comunque si può giocare anche in gruppo ed è un gioco cooperativo dai 14 anni in su e dovrebbe durare una mezz'oretta quindi è un gioco forse ecco come tempi siamo un po' su non so siamo su quella via lì un pochino più lungo e prolisso rispetto a un scope panzer però siamo lì come tempi è un gioco molto veloce dateci un'occhiata e io ringrazio ancora una volta Dracoideas e ci vediamo al prossimo video se questo video ti è piaciuto lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita primo link in descrizione primi link che trovate ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale facebook al canale mio di live twitch alla mia pagina instagram e alla mia pagina tiktok che sono sempre aggiornate e su twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata mi raccomando iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa anche per il canale youtube lo troverete sempre lì ciao alla prossima